Ciao a tutti ragazzi, questo è il nostro primo video dove sostanzialmente abbiamo deciso di metterci di fronte alla telecamera, così, perché sì, perché ci hanno chiamati, ci hanno taggati, vogliono noi, chi ci ha taggati? Ci ha taggati un canale, Doppelganger, che spero si legga così, che è un canale di una nostra cara amica che si chiama Francesca Dai Zotti, che ci ha taggati in questa catena di video sui videogiochi. E' un videotaglio sui videogiochi. Allora, la prima domanda è, perché io ho il computer qui, quindi dovrò cercare di orientarmi, è... What was your first gaming console? Cioè, qual è stata l'oltre prima console di videogiochi sostanzialmente? Io ho giocato al NES, quindi il NES è stata la prima console che è... Il NES, il Nintendo Entertainment System. Iniziate a scrivere sotto i commenti, il tuo inglese è pessimo, muori! E la mia prima console di videogiochi, in realtà, sì, era un computer. Ho messo le mani su un computer quando avevo quattro anni, c'era il DOS, c'era il DOS, si accendeva e c'era il cosino che lampeggiava. Lo schermo aveva tre colori, nero, arancione e bianco e sopra avevo preso Persia. What type of game do you like best? Quali sono i videogiochi che ti piacciono di più? Mi piacciono come genere. Genere Pokémon. Pokémon è anche un genere. Principalmente mi piacciono i giochi in cui ci sono belle colonna sonora. I giochi di avventura, o comunque i giochi in terza persona, o comunque qualsiasi gioco abbia una storia bella che c'è all'interno, o comunque interessante, è un buon gioco. Cioè tutto? Hai praticamente detto... No, perché potrebbe piacermi Angry Birds. Oh, che bello! Non è un... E' un gioco. Gli RPG piacciono di meno. Per giocare un RPG devi proprio avere una cazzo di storia, altrimenti no. Allora andiamo alla terza domanda. What is your least favorite type of game? Qual è il gioco che ti fa più schifo di tutti? Più schifo... Mi piace la serie di Dragon Guard. Dragon Guard 1 che fa veramente schifo. Ok. Devo sottolinearlo perché fa veramente schifo. Uno dei boss finali, senza spoilerare troppo. E una bambina gigante. Stai spoilerando? Il tipo di giochi che mi piacciono di meno sono, direi, quelli in prima persona. Perché a me piacciono i giochi in terza persona. L'unico gioco in prima persona che ho amato è la trilogia di Metroid. La trilogia di Metroid mi ha fatto una sfida di testa. Con la morte del planeta Fades, Samus era un orduo spazio contro il Faison che ha finito. Però in le vaste regioni dell'espresso, questa vittoria è solo un twinkle di star, spazionando la luce di speranza per la scuola. Quali sono i giochi che cazzo devo giocare? Devo giocarle! Sto aspettando Final Fantasy Tab Zero, non per giocarci, ma per giocare alla demo di Final Fantasy 15. Che è un po' anche una bimba bimbiata, ma... Maior Asmusk 3D, che però sto aspettando di un 3DS, che non mi arriverà mai perché non l'ho ancora comprato. Tutututu? Ecco. Ok, sicuramente sto giocando ai Kingdom Hearts. Non avevo mai avuto modo di giocarci, non avendo avuto né una Playstation 2 né una Playstation 3. Sono entrati i Neuronics e me l'hanno lanciata addosso. Tanto costava poco, allora ho fatto, ehi, questo è Neuronics, prendi una Playstation 3! Il nuovo Zelda per Wii U non è neanche un titolo attualmente, è l'unica cosa che se vi sta... Si chiamano Zelda Wii U. Ok, se lo chiamano Zelda Wii U credo che andrò a stuprare in un po'. Ti chiamano, sì. Qual è la cosa più pazza, più assurda, più... che hai fatto per un videogioco? Ho scartato in anticipo i regali di Natale. No, no. Per il Natale 2006. Ok, va bene, tornato. Beh, sicuramente finire Assassin's Creed Brotherhood in un giorno e mezzo. Stavo uscendo di casa e invece di precipitarmi verso la porta, ho visto il balcone aperto e ho detto... E' margari, ti buttavi. Perché non mi butto dal balcone? Ci sono valuti un 2-3 secondi prima di dire... Che cazzo ho pensato? Ho avuto veramente paura in quel momento. Ho realizzato che il cervello non è assoluto, che a volte un lavaggio del cervello è possibile. Un bug. Un bug nel cervello, tipo... E ma perché non ti butti dal balcone? Pazza, non lo so. Ero piccolo, dovevo andare a dormire e... Mi mettevo sotto le coperte a giocare a Pokémon, non lo so. Come sei trasgressivo! Qual è il gioco che ricordi di aver giocato prima di tutti? Eh, Super Mario. E' stato il primo Prince of Persia. Sempre su quel mattafone con lo schermo a tre colori. Oh mio Dio, un videogioco! Who is your favorite character? Faremo lì. E' una domanda alla quale io non posso rispondere con un solo personale. Diciamo che di tradizione va a finire l'ink di Zelda, però... Io ce l'ho effettivamente. Credo che parlando di The Legend of Zelda, il personaggio che mi è piaciuto di più è stato Midna. Però in realtà ovviamente sono tremendamente innamorato di Samus. Mi piace tantissimo il personaggio di Ziauditore. Ok, in realtà le domande sono finite. E che facciamo ora? Potremmo fissare le delle camera. Che poi sto guardando lo schermo. No, devi guardarlo obiettivo. Eh, lo so, però è più naturale guardare lo schermo. Eh, non sei abituato, figlio mio. Allora, noi a questo punto dovremmo taggare a nostra volta delle persone. Trettare, perché ci sono anche tre. Abbiamo deciso di taggare... Mi se so. ...Maccialatte, perché la seguivamo da un sacco di tempo e siamo rimasti presenti e commossi dal fatto che lei si sia iscritta al nostro canale. Oh, guarda, sei iscritta in un'altra cosa. Oh mio Dio, Maccialatte. E infine abbiamo deciso di taggare il canale di Marco... Togni. Marco Togni, che abbiamo scoperto sempre tramite Maccialatte. Ed è stata una roba terribile perché l'abbiamo osservato mangiare sushi fino alle tre di notte. Il video è finito, guardiamone un altro. Sushi. Sushi. Vabbè, chissà se rifaremo mai un altro video del genere, nel senso che non è nostra abitudine metterci di fronte alla telecamera. Vi diamo l'indirizzo in sovraimpressione per venire a farci esplodere casa nel caso questo video non vi sia piaciuto.